Oggi sta cambiando un po' tutto, sta cambiando il paradigma, tutto evolve molto, molto velocemente, quindi questo è il contesto in cui ci troviamo ad operare. Io modifico i mobili, posso evolvere assieme la mia azienda, posso staccare una tecnologia e metterla un'altra. Questa cosa la fa la natura, il nostro corpo umano è modulare. Cosa può essere Schneider al vostro fianco in questa trasformazione? Un partner tecnologico che vi affianchi nella tecnologia, ma anche sotto forma di consulenza e che vi stia a fianco in tutto quello che è il processo di costruzione di una macchina, di un impianto, di uno stabilimento, di uno ski. Dalla progettazione fino al pubblico. Grazie. 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 Grazie.